Mister Antonio, c'è sicuramente una vittoria molto molto importante a campo basso contro una squadra in grande salute che voleva fortemente l'accesso ai play-off. Un gol al 91esimo ma a testimonianza di una pressione comunque maggiore per tutto l'arco della partita. Sì, grande prestazione. La squadra è andata forse anche ai propri limiti perché comunque avevamo preparato la gara in un certo modo e non pensavamo di sviluppare così poi come venuta. Con il Ministro abbiamo preparato una partita che pensavamo di sviluppare in modo così positivo poi siamo andati appunto al 91esimo a raggiungere quello che è stata una vittoria credo meritata. Nel primo tempo grande pressione, magari non tante occasioni create però anche il conto dei calci d'angolo era a vostro favore nettamente. Nel secondo tempo avete sofferto poco, avete continuato a costruire e poi nel finale è arrivato questo gol. Sì, beh, dicevo poc'anzi. Il modulo del campo basso poteva magari metterci un attimino in difficoltà ma noi avevamo preparato le nostre contromosse e sinceramente tranne un tiro alla fine del campo basso poi credo che noi abbiamo tenuto una grande prestazione su un campo difficile nel primo tempo. Sì, poi si è concretizzato nel secondo ma abbiamo meritato ampiamente. Vittorio che serve a rispingere gli attacchi proprio del campo basso ma soprattutto a tenere debita a distanza le altre formazioni che hanno vinte tutte col terzo posto consolidato insieme a San Giustese e Francavilla. Sì, diciamo che la nostra classifica per come era partita la stagione era per tutti gli altri obiettivi poi invece è stata facendo, è chiaro che adesso siamo lì e dobbiamo assolutamente arrivare a quello che può essere una cittadina sulla torta di un ottimo campionato. Grazie 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 Grazie